Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Gli elettori italiani ci sono espressi, devo mettere solo in evidenza il fatto che sono andati a votare battendo il record negativo e questo non è una cosa esaltante perché in una fase in cui c'è una guerra alle porte e il rischio di una recessione sarebbe stato necessario che il paese avesse risposto con una grande partecipazione, però chi è andato a votare? Quel 63,9% ha scelto nettamente per la onorevole Meloni, questo è un fatto, ora non abbiamo bisogno di Biden per fare queste scelte, Biden si preoccupi delle cose americane, noi ci preoccupiamo delle cose italiane, però vorrei segnalare il fatto che in questi giorni il commissario Breton e il commissario Gentiloni hanno sottoscritto un documento insieme molto importante e a Monte ancora c'è il trattato del Quirinale, quello che il Presidente della Repubblica Italiana e Macron hanno messo insieme poco più di un anno fa, quindi vuol dire che non è che la Germania decide di fare le cose che vuol fare da sola, quella mossa lì che ha fatto la dovrà rivedere, perché il problema di una gestione comune del debito è fondamentale anche sul tema del gas, come lo è stato per i copi, riassumendo la Germania caffè